buongiorno allora scusate per ieri sera che non vi ho salutato oddio stanno incioppando le file della aspirapolvere scusate ieri sera se non vi ho salutato ma siamo andati a cena dai miei nonni abbiamo mangiato due tigeline insieme e siamo venuti a casa ho fatto la doccia fede mi sono fatta la doccia io e siamo andati a letto fede è a casa anche stamattina perché tanto era inutile portarlo oggi perché oggi è venerdì voi lo vedete sabato questo vlog ma oggi per me è venerdì e insomma sabato domenica è a casa quindi è inutile andare per un giorno ricomincieremo da lunedì speriamo che capisca un po il funzionamento ci vado tutti i giorni perché sennò è inutile poverine anche loro giustamente dicono sto bimbo non viene mai non lo vediamo mai vabbè e niente adesso devo andare un attimo via vado a ritirare la torta per mia madre oggi venerdì 9 ottobre è compleanno di mia mamma tantissimi auguri un bacione enorme e vado a ritirare la torta e la porto da mia nonna perché io faccio poco spazio e non so oggi a mezzogiorno se sono a casa oppure sono via perché Lorenzo comunque non c'è ma penso di venire a casa perché c'ho 3000 cose da fare quindi penso di venire a casa e adesso vado perché sennò mi viene troppo tardi voglio esserla alle 10 sono le 9 e le 10 meno 5 e devo ritirare la torta dalle 10 alle 10 e mezza quindi voglio andare subito così torno indietro presto fede è già pronto un po imbronciato perché voleva stare a casa ma mia sua cera giù non c'è e lo porto dietro perché tanto comunque veniamo a casa presto e dobbiamo fare un disegno bellissimo per la nonna quindi ci vediamo dopo allora torta presa adesso stiamo andando a prendere un fiore un fiore lo sceglie fede dopo vi faccio vedere anche la torta è bellissimo e adesso montiamo in macchina e andiamo dal fioraio allora sono da mia nonna mi sono andata a chiudere in bagno perché l'unico posto posso parlare tranquillamente perché c'è fede mio no c'è fede mio nonno la tv 2 tv 3 e 3 tv 4 tv mia nonna mio padre mia ma non riuscivo a parlare e abbiamo preso un bel mazzo di gerbera mia madre una rosa viola e un arancione vi lascio il mazzo di fiori qua è bellissimo è rimasta contenta perché gli abbiamo portato a lavorare e l'ho pagato praticamente una cavolata l'ho pagato 30 euro ed è stupendo e niente adesso andiamo a mangiare perché è ora di pranzo e dopo vado a casa la torta ve la faccio vedere dopo o stasera perché ormai c'è mia madre quindi non riusciamo non riesco devo farvela vedere subito ma sono corsa a prendere i fiori quindi non riuscivo messa in frigo sono corso a prendere i fiori e insomma non ce l'ho fatta comunque più tardi ve la faccio vedere se mai se va via lei prima di me che a luna e mezzo deve andare a lavorare vi faccio vedere la torta se no stasera va bene e niente adesso vado di là che iniziamo a mangiare e oggi pomeriggio fede fa il disegno con mio nonno per mia madre speriamo che lo facciano perché sennò fede voleva farlo ma vedremo se lo prendo comunque ci vediamo dopo poi pallone di pallone aspetta allora possiamo che sera e mia madre nata prendere le pizze adesso vi faccio vedere la torta se riesco ad aprirla aspettate allora questa è la torta ho scritto buon compleanno in aria con tutta sopra la meringa dentro è crema la nocciola e crema chantilly pan di spagna e questo bellissimo girasole come la torta della nonna della nonna bella sono un po arrabbiato è arrabbiato perché perché bravo abitate guardate guardate abitate bravissimo abitate aspetta che chiudo il frigo aspetta ragazzi ancora fa 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 vedere dai cioè questo che sei fare no non questo e dai loro su sapete cosa fa sto io 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 sto a fare la metto così la stile e poi la storia ah la stile e poi la storia qui via e la so qua in piedi e la due a più in fuori in fondo Volevo vedere, ecco, vorrei fare questa cosa qua? Io non so come bella fare questa cosa qua, ma noi lo vedremo, vedremo, vai Ah, avete visto? Bravissimo! E questo è anche in cazzalla, vorrei vedere che sono in cazzalla, con i piedi, bravo! Dai, tanti auguri a te, tanti auguri, dai Fede, a te, tanti auguri alla nonna, tanti auguri a te Giuffia, 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 bravo! Grazie a tutti!